E avanti e ed e , lì gli alberi ti danno un'illusione optica che sta sicuro che non vedi che profondo è profondo, è profondo il nostro corso gratuito è profondo 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 20 chilometri, trenta all'ora o c'è un altro straniero che non conosce la strada infatti qui o ci fai con uno al posto oppure se succede in presso si rovina questo dovrebbe alimentare il problema eccola qua il problema la sua riidea è una nutre corfar i ch lunci Grazie. Grazie.